Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a quello che è l'ultimo degli appuntamenti del Green Theater in questa sua prima edizione durante Linea Pelle. Si chiude questo ciclo di interventi, tutti dedicati alla sostenibilità della pelle e della sua filiera, approfondendo una delle parole chiave fondamentali di questo ultimo periodo, che è la parola tracciabilità, una parola che allo stesso modo di sostenibilità al suo interno nasconde tutta una serie di orizzonti singoli, ma come dice poi lo stesso titolo dell'evento di oggi, integrati tra di loro. Quindi abbiamo qui ospiti Sabrina Frontini, direttrice di ICEC, l'istituto di certificazione per l'industria conciaria e di tutta l'area pelle in genere, e Carlo Tremolada, che è un esperto e consulente sul benessere degli animali d'allevamento e sulla sostenibilità delle materie prime di origine animale. A loro tocca presentare il senso di un nuovo tool integrato sulla tracciabilità e il benessere animale. Diamo quindi per primo la parola a Sabrina, che ci introdurrà all'interno di questo contesto e di questo argomento, descrivendoci nel perimetro di discussione e di applicazione. Dopodiché poi Carlo entrerà proprio nella spiegazione dello sviluppo di questo nuovo modello. Bene, allora grazie Luca della tua introduzione, ben ritrovati con alcuni di voi, visto che ci conosciamo anche personalmente, perché sviluppiamo insieme a tanti di voi queste tematiche. Questo è un momento importante per noi, perché oggi vuole essere un momento di lancio, di qualcosa che si va a integrare con dei lavori che voi conoscete già fatti e già applicati dalle nostre aziende, che sono i percorsi di tracciabilità, di certificazioni di tracciabilità che loro hanno fatto. E come sapete appunto non poteva essere un punto di arrivo lo schema di tracciabilità, ma un qualcosa che poi comunque si sarebbe sviluppato nel tempo con delle appendici. E questo lavoro è proprio uno di questi approfondimenti, uno di questi approfondimenti importante, che poi appunto non è l'unico che abbiamo fatto. Poi vedrò di citare velocemente anche altri sviluppi che si sono avuti a partire dal tema della tracciabilità. È un lavoro che è stato fatto negli ultimi mesi con molta scrupolosità, ragionando anche molto su quelli che potevano essere i risultati di questo lavoro, perché è un tema abbastanza delicato per quello che può essere proprio l'output. Infatti vuole essere sostanzialmente non tanto una certificazione in più, ma un qualcosa che si integra come analisi di rischio a una certificazione già fatta. Di fatto noi non torneremo in azienda a fare ulteriori controlli, ma partiamo dai dati già raccolti della tracciabilità sui quali fare una serie di ragionamenti che poi con Carlo vedremo come andiamo a sviluppare. Io faccio una breve introduzione per proprio dare questo contesto e poi passo la parola a Carlo Tremolada per invece entrare nel merito di come si sviluppa questo modello di lavoro. Allora come sapete concetti abbastanza ovvi, si parte dalla conoscenza, l'esigenza di conoscere la supply chain dei fornitori, della loro filiera, dei materiali acquistati, qualificare sui temi della sostenibilità e chi può negare che il tema principale è quello della tracciabilità delle materie pirime. Chiunque io abbia incontrato di voi in questi giorni mi ha detto tracciabilità, voglio dai miei fornitori la tracciabilità, quindi siamo lì, il chiodo fisso è quello e fortunatamente ci siamo mossi per tempo già da un po' di anni ad applicare questi schemi che abbiamo i check ts 4 e 10, 4 e 12, al di là delle sigre, questi modelli con cui andiamo a raccogliere un certo tipo di informazioni. Io vorrei ricordare che comunque la pelle è un byproduct dell'industria alimentare e almeno quando parliamo di bovino, vicaprino, maiali, questo rappresenta comunque il 99% di tipologie di pelli su cui è vera questa affermazione che è un byproduct, nonostante questo l'esigenza di tracciabilità viene comunque accolta dai conciatori che si danno da fare per mappare quello che succede, è un percorso abbastanza difficile perché si parte dal basso e si cerca di ricostruire tutto quello che è accaduto a monte, in tutte le complessità che voi potete immaginare perché è abbastanza difficile avere queste informazioni, molti vengono trattati in modo un po' riservato anche da chi le deve fornire perché ovviamente chi le dà ha paura di essere bypassato e quindi ci sono voluti anni di tempo per avere queste informazioni, consolidarle, raccoglierle nel modo corretto e anche averle in modo documentato. quindi partiamo dal lavoro che si fa con la tracciabilità negli schemi TS 410 e 412, da qui possibili sviluppi, abbiamo parlato in questi giorni anche di claim etico della pelle, cioè proprio questo fatto che la pelle è un byproduct può essere verificato da noi tramite questi documenti e dati raccolti con la tracciabilità. Altro possibile sviluppo è il tema della deforestazione perché se sto acquistando da paesi, per esempio Sud America, magari mi preoccupo un pochino meno dell'animal welfare e quello che mi preme di più è verificare che io non abbia contribuito a aumentare il problema della deforestazione. Questi quindi sono tutti gli sviluppi possibili dalla tracciabilità e terzo sviluppo è quello di cui parliamo oggi, quindi il tema dell'animal welfare. Come dicevo prima, non si tratta di andare a fare un audit in più, ma un'analisi di rischio sulla base dei dati già raccolti e quindi questo rischio, questa analisi, questa sorta di lavoro che si fa poi ogni anno si può assolutamente ricalcolare perché avremo la situazione aggiornata dei dati raccolti in azienda di anno in anno e quindi ogni anno si può aggiornare. Chi la fa questa analisi? I-Check con degli specialisti esterni. Quindi in questo momento io ho con me Carlo che ci ha aiutato a creare il modello, ma voglio ringraziare anche Filippo che è nella nostra platea, che ci ha aiutato a analizzare tutti i protocolli perché è stato un lavoro molto importante di ricerca di dati, di informazioni, di protocolli, di leggi che ci hanno anche consentito di iniziare a creare un database con queste informazioni e man mano che andremo avanti avremo la possibilità di completarlo con nuovi dati che arriveranno da chi si farà certificare. Questo modello poi ve lo spiega meglio Carlo Tremolada, si basa comunque su dei requisiti che sono specificati, leggi, protocolli volontari che poi si vanno a sfaccettare in tutti quelli che sono gli aspetti dell'animal welfare, quindi dell'allevamento, del trasporto e dell'abbattimento. Poi vediamo bene per benino quali sono le varie voci che compongono questo modello e una cosa importantissima, quello che ne esce è un'analisi di rischio customizzata, questa è una parola che se potevo la facevo uscire tridimensionale dallo schermo perché penso e credo che tutti quelli che hanno fatto questo tipo di analisi l'hanno fatto forse in modo un po' macro considerando i paesi di approvvigionamento e facendo magari delle considerazioni un pochino a carattere generico. Il valore aggiunto di questo modello è che noi partiamo a analizzare i dati di come ha comprato la conceria, quindi io ho le informazioni di cosa hanno comprato in un anno di tempo, da chi, da quali origini e lì vado a fare l'analisi, quindi quello che mi viene fuori è esattamente in funzione di quello che ha comprato la conceria, ha customizzato le sue tipologie di acquisto, non sono discorsi più di tanto generici ma proprio focalizzati alla sua scelta di usare determinati fornitori e determinati paesi di approvvigionamento. Quindi questo è uno strumento che diamo a loro nelle mani della conceria per fare una serie di valutazioni, per consentirgli di avere una guida decisionale che oltre agli altri fattori di prezzo, si sa che è un elemento importante magari poi Luca ci dirà qualcosa, disponibilità delle materie prime, qualità delle materie prime che sono tutte le cose che poi uno considera quando va ad acquistare, anche questo può essere un fattore stimolante per prendere delle decisioni, quindi bilanciare un po' le scelte in tema di acquisto, soprattutto se c'è una sensibilità del cliente su queste tematiche. Noi abbiamo costruito questo modello grazie a sei aziende pilota molto importanti nel settore conciario che hanno anche rappresentato diverse tipologie di pellami, diverse tipologie di origini, quindi veramente è stato un grosso lavoro di analisi partendo da sei. È un modello che abbiamo anche registrato e protetto perché ovviamente ha dei contenuti che vorremmo siano abbastanza esclusivi nel loro utilizzo e oggi viene lanciato pubblicamente, quindi a partire ormai da marzo sarà poi disponibile per tutte le concerie che lo vorranno adottare e per il momento, per quelli che sono i requisiti in esso inseriti, è applicabile ai pellami bovini e ovi caprini, che comunque è già una grossissima percentuale di ciò che si va a comprare. Perché? Perché poi vedremo nel modello che ci sono magari dei requisiti legati proprio alla modalità con cui questi animali vengono gestiti, allevati e quindi che sarebbero magari applicabili ad altre tipologie per i quali bisogna fare ragionamenti comunque possibili ma un pochino diversi. Mi sembra di aver finito, sì, quindi passo la parola a te Carlo, magari io mi sposto di lì così ti lascio un po' di spazio. Luca non so se, niente, passiamo direttamente a Carlo. Allora buongiorno a tutti innanzitutto, come ha anticipato Sabrina adesso entreremo proprio nel vivo di questo nuovo sistema innovativo che è stato sviluppato nel corso dell'ultimo anno da Icek e che prende il nome di Animal Welfare Monitoring Tool, per cui andremo a vedere quali sono le sue caratteristiche principali, quali sono anche gli elementi che lo compongono e infine andremo a vedere un esempio pratico di applicazione. Dunque possiamo iniziare col benessere animale. Questo vuol dire che l'Animal Welfare Monitoring Tool è uno strumento innovativo che è stato sviluppato da Icek e che permette di misurare le performance sul benessere animale per le aziende che utilizzano pelli di origine bovina e ovicaprina all'interno della loro supply chain. Gli obiettivi principali sono quelli di gestire meglio i rischi ma anche le opportunità legati al benessere animale lungo la filiera, di aiutare le aziende a sviluppare un processo decisionale così come anche una strategia di approvvigionamento responsabile oltre che a garantire una maggiore trasparenza con gli stakeholder. In questa diapositiva possiamo vedere gli elementi principali che costituiscono il modello per cui il primo elemento è appunto come anticipava Sabrina lo schema di tracciabilità Icek il quale rappresenta il vero e proprio punto di partenza per lo sviluppo dell'intero modello. Il secondo elemento invece è costituito dal quadro normativo sul benessere animale infatti grazie alla tracciabilità Icek siamo in grado di risalire al luogo in cui è avvenuto l'abbattimento dell'animale e di conseguenza possiamo poi andare ad analizzare il quadro normativo sulla protezione degli animali di allevamento di ciascun paese che è stato rilevato. Questo elemento costituisce quello che noi definiamo il primo livello del nostro modello che poi andremo a vedere in seguito più nel dettaglio. L'altro elemento molto importante riguarda invece gli standard di certificazione del benessere animale anche in questo caso sempre grazie alla tracciabilità è possibile risalire e identificare se sono presenti degli standard di benessere animali che sono associati o che sono comunque implementati da un determinato macello e per cui di conseguenza possiamo analizzare quelli che sono i contenuti di benessere animale dei protocolli che sono stati rilevati. Ora entreremo un po' più nello specifico di questi due livelli che compongono il modello. Come abbiamo visto il livello 1 è relativo all'analisi del quadro normativo, si compone di un'unica categoria all'interno della quale ci sono quattro requisiti principali. Questi requisiti sono relativi alla protezione degli animali in allevamento durante il trasporto e durante la fase di abbattimento. In questo caso il benchmark che viene utilizzato per la misurazione e per la valutazione di questi requisiti è la legislazione sulla protezione degli animali in allevamento, la legislazione europea. Ogni requisito viene poi valutato con un punteggio che va da 0 a 3 a seconda se il paese di origine soddisfa il requisito oppure se lo soddisfa solo parzialmente oppure se non lo soddisfa affatto. Per quanto riguarda invece il livello 2, questo è relativo all'analisi degli standard di certificazione del benessere animale che vengono individuati lungo la filiera, in questo caso si compone di quattro categorie principali, ciascuna delle quali poi contiene tutta una serie di requisiti che chiaramente oggi per motivo di tempo non possiamo scendere così nello specifico. La prima categoria è relativa alla comparazione dello standard con la legislazione cogente, ossia viene effettuata questa comparazione dello standard con la legislazione del paese in cui si applica. Il secondo punto è invece relativo al processo di certificazione per cui in questo caso andiamo a considerare tutta una serie di requisiti relativi ad esempio alla durata del certificato piuttosto che alla metodologia di audit, alla trasparenza del protocollo, un altro aspetto molto importante, mentre le ultime due categorie sono proprio dedicate al benessere animale, per cui abbiamo la categoria 3 che è relativa al benessere animale in allevamento, per cui sono presenti tutta una serie di requisiti ad esempio relativi allo spazio disponibile per gli animali, alle mutilazioni e all'accesso a un'aria esterna che sono tutti aspetti molto rilevanti per il benessere, mentre l'ultima categoria è relativa invece al benessere animale durante il trasporto e l'abbattimento, in questo caso ad esempio consideriamo requisiti relativi ad esempio alla durata del trasporto, alle pratiche di handling sia durante il trasporto che durante la fase di macellazione, alla presenza dello stordimento obbligatorio oppure no e altri requisiti. La modalità di valutazione di questi requisiti anche in questo caso va da 0 a 3 e si adotta allo stesso approccio che abbiamo visto per il livello 1. Successivamente i punteggi che vengono ottenuti in ciascun livello vengono convertiti in un punteggio massimo pari a 60 per quanto riguarda il livello 1 e in un punteggio massimo di 40 per quanto riguarda il livello 2. Alla fine si sommano poi due punteggi al fine di ottenere un punteggio massimo pari a 100. Questo cosa significa? Significa che le performance aziendali di un'azienda possono essere valutate con una scala di punteggio che va da un minimo di 0 fino a un massimo di 100. In questa tabella vi assunto un po' quello che è lo scoring system che viene utilizzato per cui come vedete nel livello 1 è presente un'unica categoria e in questo caso lo score va da 0 a 60 mentre nel livello 2 sono presenti 4 categorie principali ciascuna delle quali ha un punteggio specifico a seconda dell'importanza della categoria e in ogni caso la somma totale dà 40 punti. Ora passiamo a vedere invece un esempio pratico in modo da chiarire eventuali dubbi. In questo caso è rappresentato il caso di un'azienda in cui per quanto riguarda il livello 1 si approvvigiona da tre paesi differenti per cui la country 1, la country 2 e la country 3 ciascuna delle quali ottiene un suo punteggio specifico per cui la prima un punteggio di 60, la seconda un punteggio di 40 e la terza un punteggio di 15 e quello che noi andiamo a considerare e che veramente rappresenta l'aspetto innovativo di questo strumento e anche l'aspetto unico è il volume di acquisto. Questo cosa significa? Significa che il punteggio finale non è dato semplicemente dal paese dal quale un'azienda si approvvigiona ma viene anche pesato in funzione di quello che è il volume di acquisto. Anche questa informazione che è molto importante la riusciamo a avere grazie alla tracciabilità. Per cui ad esempio in questo caso questa azienda totalizza un punteggio di 12 per la country 1, un punteggio di 20 per la country 2 e un punteggio di 5 per la country 3 proprio perché varia in funzione del volume di acquisto. Il punteggio finale è quindi di 37 su 60. Per quanto riguarda invece il livello 2 si utilizza lo stesso approccio, in questo caso sono stati identificati nella filiera tre diversi protocolli di benessere animale, il protocollo A, B e C, ciascuno dei quali ottiene il suo punteggio e anche in questo caso grazie ai volumi di acquisto il risultato finale viene definito in questo modo. Per cui lo standard A riceve un punteggio di 5, lo standard B un punteggio di 18 e lo standard C un punteggio di 4 per un totale di 27 punti su 40. Un'imprecisazione importante da fare è che il livello 1 è sempre presente, mentre il livello 2 può non essere presente nel caso in cui non siano stati rilevati dei protocolli di benessere animale dal sistema di tracciabilità oppure nel caso in cui sono presenti dei protocolli di benessere animale ma in forma privata, per cui le informazioni contenute non sono disponibili, di conseguenza non si può procedere all'analisi e per cui questi non vengono considerati nel processo di analisi. Al termine, qui potete vedere il punteggio riassuntivo, per cui ottiene un punteggio di 37 nel livello 1, un punteggio di 27 nel livello 2, per cui lo score finale di questa azienda è di 64 punti su 100. L'obiettivo era anche quello di dare dei risultati che fossero molto diretti e molto semplici da leggere proprio per capire quali sono poi le aree nelle quali è possibile effettuare un miglioramento, così come per mostrare invece le aree dove si stanno compiendo dei progressi. Poi magari volevo aggiungere, se torni indietro di due slide, che sul livello 1 come quadro normativo che ci dà i 60 punti si è preso alla legislazione europea come riferimento, perché anche lì è stato discusso un pochino dove dobbiamo mettere questa sticella e visto che le pretese anche delle case moda sono abbastanza alte, la sticella che dà i 60 punti è posizionata ovviamente rispetto alla legislazione vigente in Europa esatto, corretto poi come ha già detto Carlo, nella parte invece 2, qualora noi trovassimo sui siti internet soltanto degli slogan, andiamo magari a vedere che abbiamo i nomi dei macelli e ci dicono soltanto a parole, in forma di claim, torniamo al discorso claim che fanno determinate cose, per noi quelle robe lì valgono zero cioè non prendono punti, prendono punti soltanto i protocolli che sono pubblici, accessibili, nei quali noi possiamo entrare, verificare i contenuti e la loro completezza rispetto ai requisiti del modello questo rende abbastanza complicato il tutto ma alla fine anche più serio esatto, sì sì in tutto questo ci faremo aiutare anche dalle concerie perché nei modelli di tracciabilità abbiamo aggiunto anche delle sezioni in più dove chiediamo di aiutare nella raccolta di questi dati quindi di chiedere loro stessi e i loro fornitori che tipi di protocolli usano perché altrimenti la ricerca è demandata tutta noi e a volte magari qualcosa si può anche omettere invece l'azienda ci deve aiutare a raccogliere questi dati io sono sicura che all'inizio sarà difficile come è stato difficile quando siamo partiti con la tracciabilità e chiedevamo i nomi dei macelli e gli allevamenti all'inizio avevamo i punteggi piccolissimi perché era difficile avere queste informazioni dovremmo avere tutti un po' di pazienza, è un lavoro embrionale un po' per tutti probabilmente cominceremo ad avere anche dei buoni risultati fra un po' di tempo quando la supply chain inizierà ad abituarsi a dare queste informazioni quindi a noi arriveranno, le potremo analizzare quindi visto che noi diamo un punteggio ma spesso e volentieri vogliamo anche dire attenzione che poi non cominciare a dire ah se non è sopra i 70 allora non compro più anche qui bisogna avere un minimo di accortezza poi a verificare sostanzialmente questi punteggi a cosa corrispondono a quali difficoltà magari dietro c'è semplicemente il fatto che non sono stati accessibili dei protocolli ci sono ma non erano pubblici per il momento serve per misurare le performance delle aziende chiaramente poi non è un vero metodo di valutazione tra buoni e cattivi assolutamente non lo vuole essere è un modo per le aziende di avere maggior consapevolezza di quello che fanno e di poterla condividere con i clienti o con chi le la chiede esatto e soprattutto per capire qual è la loro situazione attuale e anche capire dove si può migliorare non c'è un livello di sufficienza di tutta questa no assolutamente questo è importante da sottolineare perché non è questo lo scopo del lavoro perché poi immagino che ci si scontri con una realtà molto variegata e complicata soprattutto più si sale a monte più si va a trovare delle realtà certo assolutamente completamente diverse magari alle quali è anche difficile accedere ma proprio in termini di scoperta sì sì assolutamente prevede anche questa difficoltà questo strumento cioè di arrivare fino a un certo punto ma poi magari a un certo punto ci si scontra con una complicazione tale per cui la conceria alla fine non è che può arrivare fino sì diciamo l'obiettivo che si preferisce è quello di raccogliere più informazioni possibili infatti quando poi verrà lanciato ufficialmente sarà anche un po' quello l'obiettivo cioè di coinvolgere anche le aziende nel raccogliere tutte le informazioni al fine di completare il di avere un database completo e che possa funzionare in questo modo poi questi requisiti che qui sono sintetizzati ovviamente per motivi anche oggi di spazio di tempo perché abbiamo mezz'ora non si poteva mentre avere un dettaglio maggiore però per esempio nel livello 2 poi per ogni voce che voi vedete lì sono 4 ma in realtà sotto si calano dei punti è più complicato di quello che state vedendo questa è una slide riassuntiva ma vorrei anche ci fosse la promessa insomma di poter riprendere l'argomento in un'altra occasione in modo diverso non in fiera perché oggi non sapevamo nemmeno insomma quelle potessero essere le tempistiche per approfondire bene l'argomento ci rivediamo poi magari in qualche seminario sicuramente di approfondimento con tutti voi in modo che potete capire meglio come funziona ma se nel frattempo ci sono domande esattamente in attesa di ripetere l'evento dovete assistito anche in lingua inglese immediatamente dopo se qualcuno ha delle domande da fare a Carlo o a Sabrina il momento è arrivato grazie non ci sono quindi dei minimi da raggiungere per il livello 1 per il livello 2 se è quindi un assessment per capire qual è lo stato dell'arte se ho ben capito no è corretto non ci sono non abbiamo fissato delle soglie è una sorta di mappatura diciamo per vedere l'azienda a che livello è e per capire come può migliorare esatto sì non abbiamo fissato delle soglie sotto le quali accettiamo e sopra le quali no per cui è uno strumento di misurazione per il momento è chiaro che però nel punteggio globale o nel punteggio poi visto per singola voce uno va a dedurre quelli che sono ovviamente la vicinanza la perfezione piuttosto che sono abbastanza lontano perché ho dei punti un pochino sotto quella che è la sticella di riferimento però appunto l'Europa è una cosa non tutto si può comprare dall'Europa quando ci spostiamo su altri paesi o su altre tipologie di animali che si comprano un po' ovunque ovviamente questo è uno strumento anche di analisi di cosa succede sia dal punto di vista normativo o di protocolli che si trovano nelle varie realtà dove effettivamente poi le pelli vengono comprate in effetti non so se ma lo diciamo nelle aziende analizzate nessuno ha preso 100 punti ma è difficilissimo proprio arrivare anche a 100 perché abbiamo visto che nella prima sezione compreso come riferimento alla legislazione europea volendo a 60 ci si arriva nella seconda sezione dipende dai protocolli se ci sono e se sono più o meno completi però anche i protocolli migliori che ci sono capitati oggi da analizzare mi manca sempre quel punticino forse il 100 non è ancora l'abbiamo lasciato come numero perfetto ma è veramente difficile anche perché il modello non è stato poi sviluppato sulla base di un protocollo specifico di benessere animale ma sono stati considerati diciamo dei requisiti generali basati poi di rilevanza scientifica per cui dopo noi andiamo a controllare se effettivamente questi requisiti sono inclusi all'interno dei protocolli chiaramente ce ne sono alcuni che ne contengono la maggior parte per cui si avvicinano molto al punteggio massimo mentre altri che ne contengono soltanto alcuni per cui in questo caso sono più distanti altre domande? Salve grazie solo per capire se le five freedoms sono inserite allora nel livello 2 all'interno di questi protocolli che voi andate a controllare le five freedoms sono include le five freedoms sono assolutamente incluse nel livello 2 ma così come anche nel livello 1 perché proprio anche il livello 1 è in base alla legislazione europea per cui anche in questo caso le five freedoms sono incluse per cui sì la risposta è sì vi ringraziamo il nostro tempo è la nostra mezz'ora è terminata e adesso diamo benvenuto a Roberto Procaccini che invece modererà l'evento in inglese come on Grazie a tutti.